la sconfitta della juventus contro il sassuolo non fa male soltanto ai semplici tifosi ma fa male anche a quelli che sono i piani alti e quindi scopriamo insieme che è successo perché questo quest'analisi post partita di sassuolo juve in realtà che c'è stata ieri è stata molto calda ma il giorno dopo fa ancora più riflettere per una sfida che butta giù il morale di tanti tifosi non tanto per il risultato in sé per sé ma per come è arrivata scopriamo tutti i dettagli cerchiamo analizzare il tutto qui su fcm sport io come sempre tra l'altro vi ricordo che tante informazioni sulla juventus trovate anche su one football scaricate quest'app perché qui trovate informazioni notizie video sulla juventus ma anche sulle altre squadre in maniera del tutto gratuita vi basterà cliccare su questo link che c'è qui sotto in automatico vi ritroverete quest'app sul nostro cellulare ovviamente ha tanti contenuti in maniera del tutto gratuite le trovate anche qui su fcm sport quindi mi raccomando iscrivete e mi raccomando le solite raccomandazioni poi lasciate un like al video commentate e quant'altro commentate soprattutto le parole di elkan perché c'è john elkan che è una figura di riferimento nel contesto juve ma c'è anche l'apo elkan e si si dirà che è un semplice tifoso ma è impossibile ignorare certe parole di una personalità così di spicco all'interno del contesto juve fratello minore di john elkan che è chiaramente il numero uno di exor cassaforte diciamo di famiglia della juventus e va dritto per dritto senza peli sulla lingua sulla juventus e cosa fa pensa bene di twittare dopo la sconfitta contro il sassuolo e dice non potete dovete fare meglio vergognatevi ora queste sono parole pesanti probabilmente molto pesanti e che secondo me stiamo parlando di una figura come quella di elkan che non è una figura qualunque molti diranno eh ma lui è semplicemente un tifoso è staccato al contesto juve mica tanto mica tanto ma poi elkan secondo me è una figura abbastanza importante e tra l'altro il tweet non è arrivato non è arrivato dopo la sconfitta è arrivato dopo lo 0 a 0 il primo tempo e già lì diceva ai ragazzi di vergognarsi immaginate ora cosa può dire e tra l'altro ci sono stati anche altri utenti dicevano ma siamo sicuri che questo questo account sia vero e lui ha risposto assolutamente sì sono io e non è la prima volta non è la prima volta che lui commenta contro la juventus e magari anche a favore di altre squadre al tempo fa quando c'è stato quel napoli milan 4 a 0 con la vittoria dei rossoneri al maradona lui fu il primo a dire mi piacerebbe vedere ogni tanto la mia juve giocare così con questo tipo di di grinta ho come la percezione che un po il vento stia cambiando attorno alla figura di max allegri lo noti anche quando finisce la partita e giovanni guarda la al termine la sfida a sky sport dice parla del primo tempo come un tempo un primo tempo noioso e di una bruttezza indescrivibile solitamente soprattutto max allegri certi commenti e certe certi commenti cercano di essere sempre un po più equilibrati mentre ultimamente si sta andando giù pesante c'è stato anche un commento del tutto sport che qualche giorno fa ha parlato di un orientus che comunque deve cambiare che questo questa roba qui non basta non basta più questo tipo di atteggiamento perché ormai tutte le squadre anche quelle italiane dal sassuolo in giù stanno andando avanti a livello di idea di calcio stanno cercando un calcio sostenibile ma allo stesso tempo un calcio che possa avvicinarsi sempre di più al calcio europeo per poi non andare in europa e fare figure barbine guarda caso le figure più belle stanno facendo squadre come napoli milan secondo me hanno fatto un cammino ottimo in championship ma anche la fiorentina se ci pensate perché la fiorentina in questo momento sta facendo un ottimo percorso in conference e anche loro sono ai quarti di finale conference e si apprestano andare in semifinale perché hanno fatto un risultato meraviglioso all'andata per 4 a 1 questo cosa vuol dire vuol dire che l'avventus forse deve cominciare a ragionare in maniera un po diversa perché ho come la percezione che questo tipo di calcio in casa juve abbia un po stancato e non so se ha stancato sia i tifosi che i giocatori gran parte della tifoseria sicuramente sì perché quello che dispiace di questa juventus non è perdere col sassuolo perché all'interno di un campionato può anche starci perdere qualche partita magari non troppe ma qualche partita si può anche perdere il problema è come la perdi e come la perdi non riuscendo a creare soluzioni di gioco non riuscendo a creare occasioni da gol ed era un sassuolo senza la sua punta di diamante berardi nonostante ciò ti ha messo sotto c'è stato invece una juventus che ad un certo punto della partita aveva contemporaneamente in campo giocatori come pogba di maria chiesa vlaovic quadrado giocatori di un certo livello giocatori di assoluto livello soltanto il tridente composto da di maria chiesa e vlaovic è un tridente importante anche se poi vediamo che allegro trasforma non diventa più un tridente ma diventa un chiesa messo a tutta fascia dove fa una fatica incredibile e a livello difensivo si vede di maria che non può fare l'esterno puro perché come sempre va gigioneggiando e va girando per il campo perché ha bisogno di andarsela a prendere perché non c'è una squadra che un'idea di gioco e te la costruisce l'azione ma deve essere di maria che prende palla a centrocampo e si deve inventare necessariamente qualcosa questo tipo di gioco ormai credo sia abbastanza superato e soprattutto questo poteva farlo massimile massimile che ha insegnato a questa juventus a difendere sicuramente ha capito come non subire gol e ha insegnato ai giocatori come non subire gol in una certa faccia con una certa facilità cosa che magari vedevamo nell'anno di pirlo ad esempio allo stesso tempo però vi dico che quando i giocatori dell'alimentus hanno il pallone tra i piedi non hanno idea di che cosa fare proprio non sanno cosa fare offensivamente parlando intendo quando c'è il possesso del pallone quando c'è il possesso del gioco non si dà idea di cosa fare si dà sempre palla a di maria e qualcosa sarà da inventare quando non c'è di maria infatti c'è un piattume incredibile e poi lì è facile attaccarsi ai singoli e quindi esattamente come quando va bene c'è la giocata del singolo e te la risolve quando va male si attacca il singolo e infatti vlaovic è il singolo più attaccato un giocatore che vale 75 milioni di euro e che ti arriva da una fiorentina dove fa una valanga di gol non può essere questo vlaovic e attenzione non ci attacchiamo tanto alle caratteristiche che molto spesso sento dire eh ma lui gioca a spalle alla porta non è un giocatore adatto per fare questo tipo di gioco probabilmente è anche vero però è anche vero che vlaovic sta mettendo anche del suo cioè potrebbe migliorare in quell'aspetto qua un problema più mentale perché se un attaccante non ha mai un'occasione da gol perché non viene mai servito è complicato francamente far gol è complicato per un attaccante riuscire ad andare in gol soprattutto a quell'età in cui bastano due tre partite senza far gol per buttarti giù e qua è un anno che vlaovic va male e anche all'inizio segnava sul rigore calcio di punizione per intenderci è una juve che va male se ne sono resi forse anche i piani alti io come la percezione che e lo dico da tempo la mia speranza sia è veramente quella non dell'esonero ma di una chiamata dall'alto sia dal psg perché il psg è una squadra interessata ad allegri e quello potrebbe considerare di liberarsi di allegri senza toccarsi sforzi economici anzi quella è la mia grande speranza perché così davvero non può continuare così davvero è preoccupante così davvero c'è da preoccuparsi seriamente voglio sapere che ne pensate voi perché al di là della classifica del punteggio tutto quello che volete sicuramente ci sarà qualcuno che mi dice ma comunque la juventus è a tot punti dalla seconda senza il meno 15 è una stagione complicata questo inevitabile però allegri va avanti così dallo scorso anno già quella dello scorso anno è stata una un'annata negativa è stata anche quella di pirlo bisognerebbe dare una svolta totale cambiare sia molti giocatori ma soprattutto l'assetto tattico e quindi cambiare anche quella che l'organizzazione di gioco e lo fai attraverso un cambio allenatore voglio sapere che mi siete voi soprattutto mi piacerebbe sapere da voi chi mi piacerebbe vedere sulla pagina di ventus per una rinascita totale magari con qualche anno dove non si punta subito allo scudetto però costruire qualcosa che possa rimanere negli anni voglio sapere che ne pensate voi sotto nei commenti